Parliamo di persone di origine Roma, che sono natate qui nel Re Unito. Qual è la condizione di loro? Ho lavorato con le persone romani in Cranbrook, in Kent, per molti anni, quando ero un vicar, in una città di Cranbrook. La maggior parte dei loro sono in casa, non vivono in situazioni, ma hanno perduto la vita nomadica. Quindi ho lavorato con loro, ma ora ho lavorato in Luton, con le persone romani in Romania. Chiedono vivere in casa, ma abbiamo avuto un numero di bambini in Luton, per queste famiglie romani romani. Chiedono vivere, vogliono vivere nel paese, non vogliono vivere. E credo che stanno preoccupati del Brexit. C'è molta ansia con il Brexit. Non di noi, ovviamente, non lo saperebbe, ma dove si tratta, ma da dove si tratta, c'è un gran ansia. E, ovviamente, i nostri roma, ci sono chiedendo, cosa succede con noi? Siamo senti a casa in Romania? Siamo senti che le nostre relazioni non possono arrivare a noi? Siamo separati dal nostro paese. Siamo cercando di calmare le nostre nervi. Siamo cercando di dire che, con molti di queste domande, non sappiamo ancora la risposta. Siamo cercando di roma in Luton, la integrazione è buona o non? Cioè, roma in Luton? No, i roma in Luton? No, i roma in generazione. Sì, hanno stato di unchalletta, nerv trailerano gli Wilde sono hanno i suoi fame, . Le rheole dorzji del Unione europee farebbe avrupolare per loro, in quanto per altre meal per roma in Luton. Forse av Per La Germana di sicurezza, io credo. Sei Roma o sei un figlio inglese di queste persone? Sono un figlio inglese, nato in England, con un passaporto inglese e sono un figlio dei Roma e ho lavorato con loro in Luton. Come si è iniziato questa amministrazione? Come si è iniziato? Come si è iniziato quando ero vicar in Kent, in Cranbrook, e ho iniziato a lavorare con gli inglesi romani. E poi, in cui si è iniziato a Luton, ho scoperto che c'era un grande numero di Roma europei da Roma. E poi ho lavorato con loro con loro.